No, è vero, però, sei andato il mio senpai Ok Cosa è successo? Io... Mi fa, mi fa battere forte il cuore Salve, ma, scusate, l'ho appena ammazzato questo Ma è rivivuta Eccoci qua, hop là Dai, chiudi bene, facciamo un pacco regalo Ma se mi lavo dentro la fontana, no, eh Me ne vado in giro così È tipo dicembre, ma non importa Sono un chess pool, il meme di Homer Simpson Ho capito, ma che lo sapevo che c'avevo Bruce Lee contro Mi hanno chiamato la polizia per me Se questo video raggiunge i mille like Che vi porto un episodio 2 di questo gioco Signori e signore Benvenuti sul mio canale, io sono Nico E oggi siamo qui con un gioco richiestissimo Ovvero Yandere Simulator Un gioco che mi avete chiesto tantissimo in live su Twitch Ma che sulla piattaforma viola non si può portare Quindi ve lo porto come video, ma prima Mi raccomando lasciate un bel ecozzo Iscrivete se siete nuovi Attivate la campanellina E vi ricordo, dal lunedì a sabato alle ore 21 Mi raccomando, non mancate il live su Twitch Detto ciò, andiamo in gioco e buona visione Signori, benvenuti su Yandere Simulator Iniziamo What the channel is your ED all over? Mail Come non è? Ma Quindi, va bene Quindi questo, vabbè Il mio bro com'è? Com'è? Chi è il mio amore? Intanto perché lo sto seguendo? Io sono quella dietro, giusto? Madò che ansia Eh Eh Che capelli No, non mi piace No No Un rino ci è ronto No No No, bru Carino Come fa ad andare avanti? Ma cos'è Edgar di Brawl Stars si sembra No Cos'è? La testa di Machok Eh No, non mi piace Va bene No, questo no Mettiamo questo, dai Il colore capelli Eh Blu È il mio amore ideale Occhi Blu Eeeh Occhiali No, senza occhiali Baffi No, no Senza bello pulito È giovane Ok Questo è il nostro amore segreto Che dobbiamo cercare di innamorarlo Ma perché lo sto guardando Così da dietro Qua c'ha Vabbè I'm sure you want to proceed Yes Ah, scegliamo l'uniforme Eh Aspetta un attimo Ah, questo mi piace Female I'm sure Si, I'm sure I want to proceed Si, si Certo che sono Io sono sempre sicuro Something is Qualcosa è Sbagliato Ma questo è Pomodoro Qualcosa è sbagliato con me Per quanto mi Io mi ricordo Mi sono sempre sentita vuota Come se una parte di me mancasse Questa sensazione Ha sempre dominato la mia vita Non sono mai stata in grado Di sentire nient'altro Ma sono in intanto fortissimo A tradurre ragazzi I'm the best one Ehm Il mio mondo è sempre stato freddo Buio Silenzioso Mia mamma è stata esattamente come me Quando era più giovane Però quando ho incontrato mio padre Tutto è cambiato per lei Non c'ho cacchia Ah, è diventato tutto più caldo Più colorato E non ho letto dopo E ha reso tutto così completo Mi ha detto a me Che un giorno Avrei incontrato qualcosa di speciale O qualcuno Qualcuno Che mi avrebbe curato Mi avrebbe sistemato Mi avrebbe salvata Ho speso tutta la mia vita Nell'attesa di quel giorno Sognando che in quel momento Avevo incontrato quella persona Poi ne ho letto L'unica cosa Alla quale Non vedevo l'ora di Eh O tenere di arrivare Era la mia unica ragione di vita E quel giorno Eeeh Il primo incontro di mamma e papà Wow Perché tiene la mano così Perché L'ho trovato Si è colorato Guarda com'è bello tutto blu Tutto così emozionante Io comunque ancora non ho capito Perché mi avete fatto giocare questo gioco Vabbè Oh ma che stai aspettando Più del 70% di voi non è iscritto Iscriviti Prima che ti vengo a cercare Quando l'ho incontrato qualcosa è cambiato dentro di me Il mio mondo era pieno di luce Di colori Madonna mi sto emozionando E' come se avessi per la prima volta Aperto i miei occhi nella mia vita Mi sentivo Calda Cioè Completa Mi sentivo finalmente viva Lui è il Il mio modo di scappare dal freddo Dal grigio Dal vuoto Era quella persona che stavo aspettando Che stavo aspettando da tempo E che avrei aspettato Avrei voluto passare con lui Per il resto E qualcuno stava cercando di portarmelo via Bene 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 Lo ammazziamo No nel senso Lei voleva lui Ma non nello stesso modo in cui lo volevo io Sto cercando di leggere veloce Non lo apprezzavo nel modo in cui lo apprezzo io Non se lo merita Aia aia Qua succede Devo fermarla Anche se volesse dire Farle del male Anche se volesse dire Ucciderla Capito ma Non Non ci serve nulla che non farei per lui Non mi interessa che cosa devo fare Non mi interessa se faccio del male a qualcuno Ma quella è una testa che c'hai in mano Ma che Perché lo dico come un sacchetto della spesa Non mi interessa Niente Non mi interessava niente di nessuno Lui Sarà Mio Non ha scelta Non ha scelta A propos Io andresti a morire Ho una carissima inestà Io Io posso anche Avrei potuto mettere giapponese Ma inglese va bene Tanto avete visto Io sono la madre della lingua del game Di la lingua Cosa succede Drama Club Ehi bro Ciao Mi piacciono i tuoi piedi I tuoi capelli Che è questa Ma mi fa cacare addosso Lo sapevo Non c'è Non c'è Stiamo cercando di riempire per una spesa Ma la lead actress Non è qui Non possiamo filmare per lei Non ha detto questo Comunque Sarà divertente È una spesa D'un serial killer Tipo un serial Non so parlare Ragazzi Ho smesso di Vuoi partecipare Sì dai Partecipiamo Perché sennò Il tutorial Wow Ma quanti tasti Ma sono tantissimi Ragazzi Io non Vabbè L'imparerò Stada facendo Ok Tanto mi dice ora 12 gennaio O è l'1 dicembre 2024 Perché Dipende In America Si usa il contrario Vabbè Vai Conferma Voglio uccidere Cioè nel senso nel gioco Ovviamente Il killer Picked up The knife That was on the table Then She went On a killing spree Murdering Everyone Ma come le killing spree Ma così è lol Salve Sì Scusami eh Ti devo un attimo Trovare un Qui Qui va bene Me lo butto Me lo butto sto sacco No Sono un Mannaggia Sono uscito Ti conosco Ti ho visto che Stalkeravi Nella classe Classe Tu oggi Scusa Ci deve essere Qualche tipo di Misunderstanding Qualche tipo di Ma che si dice In italiano Che vedi Che poi sono mezzo inglese Io Because I'm learning English In USA So now I'm met E' metà Non c'è bisogno di Niente fare la pittina con me Ti vorrei aiutare Vuoi delle informazioni Riguardo alla ragazza Che era con lui Sto ascoltando Il nome è Osana Najimi Giustamente Ha una crush per lui Certo E ha È in piano di Confessarlo a lui Il prossimo Venerdì Sotto l'albero Di ciliegie Dietro alla scuola C'è un mito Che dice Se tu confessi Il tuo amore A qualcuno Sotto quell'albero La persona A cui lo confesserai Non potrà Rifiutare Ma oh ragazzi Ragazzi Ma io veramente Ho studiato Dox Horace Veramente Qualche traduzione Perché mi stai dicendo questo Sarei felice Se succedesse qualcosa Di brutto Ad Osana Chan Io penso che tu sia La giusta persona Che lui Che lei Che lui Vabbè Che si merita Chi sei Hai mai sentito Di Info Chan No che cazzo Info Point Cos'è Una leggenda urbana Che parla di una ragazza Che ha che era le persone Per vendere loro Dei segreti sporchi Al migliore offerente O alla migliore offerta Comunque E Quindi Quindi mi stai dicendo Che tu sei Info Chan Tu veramente Pensi che io Ci possa credere Ho installato Un'applicazione Sul tuo telefono Guarda E Come hai fatto A farlo Non c'è bisogno Che io te lo die Che non ti serve Saperlo Stronza No vabbè Questo è in più Non c'è scritto Effettivamente nel testo Se farai dei piccoli favori Per me Potrei offrire Una varietà di servizi Che potrebbero aiutare A eliminare Osana Chan Allora Se farai Dei piccoli favori A me Ti offrirò Una svariata Possibilità Di servizi Che ti aiuteranno Ad eliminare Osana Chan Tutto ciò che devi sapere Dentro quell'app Ok Quindi E cosa succederebbe Se non volessi Fare niente con te Se non sei interessato In miei servizi Non lo prenderò Personalmente Ti senti A me Se non sei interessata Ai miei servizi Non la prenderò Personalmente Sentiti libera Di ignorarmi Guarda Io non la ignorerebbe Perché Effettivamente Ma non ignorare Osana Chan Giusto Ma non ignorare Osana Chan Hai una settimana Prima che confessi Ciò che prova Al senpai Che tu tanto Mi Vabbè Falla soffrire Ma che cosa Ma che è il suo gioco Ragazzi Ma cosa mi avete fatto Scaricarmi Però io Cioè Le puntine del 2024 Non esistono Con i coltelli Direttamente Ma quanti che cucina ho C'ho un set di coltelli Proprio Quello di Chef Tony Queste coltelli Tagliano pure lattine Ah lì ci sono tutte Le informazioni Ok Ma ci devo giocare Col pad Ragazzi si attacca il pad Per tryhardare Dai ho capito Ah queste sono le opzioni Per come io possa Provare a uccidere lei O comunque farle del male No non la voglio fare Ah Fugare dentro il bagno Vabbè Qualcosa che le cade in testa Bruciare Bullizzarla No bullizzarlo no Piuttosto la macchia Perché la devo bullizzare No Non lo so Potrei andare senza piano Però Essendo la mia prima volta Capito Andiamo senza piano Dai andiamo Aspetta ma ce ne sono altri Questa difficoltà Ah espellerla dalla scuola Infilarla dentro una ventola Da reazione Sì ragazzi ma quando Proviamo Non importa che è la mia prima run Su questo gioco Ragazzi alle 6 di pomeriggio Di venerdì ci sarà l'appuntamento Ah ma siamo nel 2026 Ah ok Va bene Andiamo Allora io cosa devo fare Guarda come cammino Exit Exit dal gioco Exit Change panties No no Senpai Sì Sono le 6.30 di mattina Io dovrei andare a scuola Ma Exit da cosa è Exit Voglio andare a scuola Ma scusa Come vado a scuola No non voglio uscire Come vado a scuola Ma fai andare a scuola C'è una volta che voglio andare a scuola Scusami E ho impossibile Skip school No non voglio skip Ma scusami Ma posso andare a scuola Ma ci ho cliccato prima Voglio andare a scuola You may choose an item To bring to school with you Go to school Con un In teoria ho preso un Come si chiama Quello che fa Che tagli Che apri i pacchi Quello forte Per i pacchi più Un cutter Come si chiama in Italia Vabbè Ho preso un taglierino In teoria ho preso un taglierino Porte Posso tagliare la gola tu No non si può Ma che capelli lunghi c'hai Ma è proprio un sottone lui Sì c'ho un taglierino Ah sì Gioco con mouse e tastiera Va che è tutto Deve essere all'orario di pranzo Sopra il Nel Sul soffitto Che ha detto All'ultimo piano Anche io Aspetta Ehi È occupata in questo momento Sì io parlo con lei Gli ha chiesto se si fosse comportata male È solo successo Lo rifiuta La rifiuta Mi fa sentire così Paurosa Non gli piace Perché non riesco ad essere onesta con lui Possiamo stare Non ci interessa Salve Aspetta aspetta C'è un indizio Ok devo stare attento a quelle ragazze Che sono Quelle Ok No e beh però Siamo andati il mio senpai Questi sono tutti in fila Voglio vedere un altro indizio Ok si può lasciare un Tipo un Come si chiama Una nota Un non mi viene il termine Dov'è Ma non so qual è il locker del mio bro Mannaggia miseria Però me l'ha fatto perdere Posso parlarci? Ciao Ciao sana come stai? Facciamo Socializziamo Facciamo lei complimenti per i capelli Sei eroica? Sei amiche Sei sexy Sei sexy Ok Com'è ok? Posso farti una foto? Oh Va bene Ciao 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 sana Ciao Ci becchiamo Ciao Via 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 Non deve capire niente Non deve capire All'ora di pranzo la spacchiamo di botte Ma se la faccio fuori subito cosa succede? Oh no Un altro indizio Eh la miseria Guarda che qua mi dice le schedule Questa è la schedule di lunedì Di tutto E a luna di pomeriggio si beccano loro due E con lei si becca tutta Ah no però Ah ma c'è uno schippo incredibile qua Ah ci sono tutti i giorni ragazzi Ogni mattina alle 7 si beccano Interessante Ma quello non è il mio bro vero? Dove è andato il bro? Eccolo Ehi scusa Cosa è successo? Io Mi fa Mi fa battere forte il cuore Eh Parlaci Stronza No no Ciao Scusami Che non Ma perché non ci posso parlare? Maddo Fammi vedere Qualche altro indizio Drop Dammi del drop Eh No no al momento non voglio niente Grazie Allora Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare Ma cosa devo fare? Eh Cosa c'è qua? Cucina Ah è più bella di casa mia Ma cos'è? Ok Ma che scuola incredibile Guardiamo con questa Ciao No aspetta Fammi Fammi fare un complimento Sei amorevole Perché dicono Ok Vabbè ciao dai Sei No 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 Smettila Ciao Ciao È stato un piacere parlarti Ciao Ci becchiamo Ciao Io non ho visto in bassa destra Il mio diciamo battito cardiaco Nel momento in cui mi avvicinavo a lui Ah Dicevo ragazzi Io devo fare una cosa Che non vorrei fare ovviamente Devo uccidere qualcuno Per capire insomma come funziona Sei vicino a un club room Ah Se parlo con il capo del club Posso joinarlo Posso entrarci Non mi interessa Io devo uccidere No nel senso Non è che Ah dobbiamo beccare qualcuno Che è in dis... Eh mi spiace signorina Mi si prende l'arma Anzi come prendo No 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 Eh scusami Non volevo Come prendo l'arma Aspetta Deve essere tipo Prendi Ok No 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 Lascialo qui Buttalo Cosa ho raccolto? Vabbè Buttala Come la butt Che indizio c'è? Ah si sta beccando lei Ok Come mi pulisco? Devo stare attento Infermeria Mannaggia la miseria No 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 Ci saranno dei bagni Da qualche parte Bagni Ok no Poverina Quella ragazza è stata la vittima A sacrificare per capire insomma Qui Salve Ma scusami L'ho appena ammazzato questo Ma è rivivuta Eccoci qua Opla Dai Chiudi bene Facciamo un pacco regalo Bene 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 Ok Prendiamolo Tanto sono incognito qua Guarda che parlano vicino io Ok Ci sarà tipo un bidone a qualche parte? Classe 1 Classe 1-2 Eccolo i bagni Eccolo i bagni Nel bagno degli uomini Così non danno la colpa a me Ok Perfetto Ottimo 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 Andiamo nel bagno delle donne Mi posso lavare? Come mi lavo? Vediamo Aspetta che ci sono degli indizi Ah posso interagire con uno specchio Per cambiare la mia personality Ok Ho fatto una foto per sbaglio No no Ho fatto Ok Come mi cambio? Ecco questo può servire Ah devo andare Ok Ok Devo andare nella struttura dietro La scuola Perché lì Ci sono tipo le docce Non mi devo uscire Ma se mi lavo dentro la fontana no eh Ah Eccolo Ok Devo andare dritto tutto di qua Ottimo C'è la mappa Perfetto Andiamo di qua Bene No 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 Quella con il vestito bianco Posso passare? No no Come ci arrivo? Ok Ok Sei andato di là No ci sono troppe persone lì Devo andare a lavare ragazzi Devo andare a lavare Cosa c'è qui? Che è tutto così luminoso? Oh Perfetto Ma chi? Ma Chi ha parlato? Ragazzi ma c'era qualcuno? No no qualcuno mi ha detto se fosse sangue Ma chi è che sta parlando? Ragazzi ma C'è qualcuno che mi sta parlando Ma non lo vedo Ah devo togliere i miei vestiti Qua al locker Sì Perfetto Vado a farmi la doccia Ok Mi vado a rimettere i vestiti Ma i vestiti sono sporchi No no Non chiudere Non chiudere Metti Va bene I vestiti dove li lavo? Allora io non so dove devo portarli Ma Dove li posso lavare? Ma chi è che mi parla? Che mi dice Ma è sangue Ah li lascio qui adesso Basta Me ne vado in giro così È tipo dicembre Ma non importa Ma mi sta aspettando la polizia Perché c'è il simbolo della polizia? Ciao Come va? Eh sono Molto interessato alle lingue Sì Sì So parlare molte lingue Tante Ti faccio Sei forte Ciao Me ne vado Ciao È stato un piacere parlarti Ciao Ciao Allora Aspetta io so che Loro stanno parlando fuori Mi sa Questa qui quella Ciao Non ci posso parlare Scusa come non detto Lei è un capo incredibile Non posso socializzare con lei Ma perché? È un'autorità troppo incredibile Salve Scusi Scusi ho fame Scusi Scusi Me ne potrebbe Siamo tutti maleducati qua comunque Allora io devo un attimo andare fuori Ma stanno sempre insieme loro Sono un chess pool Il meme di Homer Simpson Ok Stanno parlando male delle Dai Dividetevi voi due Posso Scusami 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 Cosa pensi questo club? Stanno parlando dei club dell'occulto Posta Il club dell'occulto Dentro una scuola comunque Andiamo al prossimo club Ah stanno scegliendo un club quindi Sono disinvolto Oh sì sì Bella questa classe Molto bella Mi ha guardato malissimo Io che chiudo la porta Tocco Si impara Ha fatto un Devo seguire Qui sono alla sezione Ascolta posso suonare No no Scusa niente Scusami Hanno chiamato la polizia per me Oh cacchio ma subito Oh porca miseria Ma dove sono? Sei entro a far parte di un club? Voglio entrare nel club della musica Sì Voglio entrare nella band La polizia è arrivata a scuola La polizia ha scoperto Il corpo Esanime di Musume Ronshaku L'arma del delitto È un taglierino Aiano è stata arrestata dalla polizia Non rivedrà mai più Il suo senpai Ma scusate una cosa Ma io Una domanda No Prima di Arrabbiarmi Io posso fare una cosa E voglio fare solo un test Per capire Tanto io una cosa Devo fare in questo momento No Se tanto Devo andare in prigione No Cioè non che ci devo andare per forza Se la uccido direttamente No No non posso Uffa Però Uno non può uccidere in pace nessuno In questa scuola Che fastidio Che cosa mi dà l'indizio questa Sì la schedule Va bene Se la uccido ora Ammazza anche lei Ammazza tutti Ho capito Ma che lo sapevo Che c'avevo Bruce Lee contro Ma scusami Ma perdonami Un second Vabbè ho capito Non si può fare Vabbè Imparerò meglio dai miei errori E magari Se questo video Raggiunge i mille like Vi porto un episodio 2 Di questo gioco E niente ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi Se siete nuovi Attivate la campanellina Vi aspetto Dal lunedì al sabato Alle 21 In live su Twitch Mi raccomando Non mancate E detto ciò Bella Poi Nico Pensavo fossi un amico Invece sei diventato Un mio nemico Per colpa Tu ho il pistolino Micro Grazie a tutti i miei errori